È molto difficile, è molto difficile, è molto una buonissima squadra che ci ha dato filo da torcere, però credo alla distanza, alla distanza è il secondo tempo, siamo usciti e abbiamo fatto un secondo tempo veramente notevole, credo alla lunga di averla meritato. Cinque vittori su cinque non ci avrei scommesso nemmeno io, me l'auguravo, ma era molto difficile, l'abbiamo fatta e bravi ragazzi, non è fatta questa impresa. Loro sono una squadra di categoria, penso che far punti qua sono stati tre punti fondamentali e è stata la dimostrazione che possiamo far bene in questo campionato e dai bene così. Io ricordo bene il record che abbiamo fatto, che abbiamo fatto, mi ci metto un ballo anch'io perché andavo sempre in trasferta con Mario Somma all'anno della Serie C, quindi è bello aver guagliato questo record. Siamo abituati un po' tardi, però al primo tempo abbiamo saperto molto sulle loro palle lunghe appunto, però l'importante è stato portare a casa i tre punti fondamentali che valgono anche di due o tre punti, grazie all'episodio, che può essere dubbio, però ce la godiamo così. Dovevamo lavorare molto sulle seconde palle a centrocampo per il loro gioco sporco, ci siamo riusciti, abbiamo fatto una grande partita solida di sostanza, questo ha dato un grande aiuto per la vittoria.